Le persone anziane di età superiore agli 80 anni oppure 75 in caso di invalidità del 100% potranno restare negli alloggi del progetto case messi a disposizione dal Comune dell'Aquila anche laddove tornasse agibile l'abitazione danneggiata dal sisma, ovviamente su richiesta e corrisponsione del canone di locazione previsto. L'ho stabilito l'Aggiunta Comunale dell'Aquila accogliendo una proposta deliberativa presentata dall'assessore all'assistenza alla popolazione Fabio Pelini. Abbiamo adottato questa deliberazione in ragione del fatto che molti anziani hanno manifestato la volontà di restare nell'alloggio del progetto case, ha dichiarato l'assessore Fabio Pelini in considerazione della socialità che in questi anni hanno avuto modo di ricrearsi anche dal fatto che non tutte le abitazioni ristrutturate sono accessibili per persone anziane in quanto per esempio sprovviste di ascensore. Per questa ragione, ha spiegato Pelini, daremo la possibilità di restare nell'alloggio agli anziani di età superiore agli 80 anni oppure agli ultra 75 anni con l'invalidità del 100%. L'autorizzazione verrà accordata previa richiesta a fronte del pagamento ovviamente del canone di locazione come stabilito sulla base della grandezza dell'alloggio del quartiere dove quest'ultimo è ubicato. Non sarà possibile, ha detto anche l'assessore, cedere l'abitazione in subaffitto. In questo senso verranno effettuati anche dei controlli per verificare, come nei casi di cambio di residenza, l'effettiva permanenza del domicilio.